Questa volta ho bisogno del vostro aiuto, ci vedete di più un SUV, una wagon oppure una berlina scrivetemelo nei commenti perché la nuova C5X è un'auto davvero particolare ma in questo primo contatto tra le strade di Barcellona un'idea me la sono fatta e cioè che vedendo come fuori, come è progettata dentro e come va è che questa sia la Citroen più Citroen tra tutte ora vi dico perché Finalmente qualcosa di diverso in un mondo dove fare un prodotto che esca dagli schemi è sempre più rischioso ben venga un'auto che è persino difficile da classificare sicuramente però la si può battezzare come ammiraglia sia per le dimensioni con una lunghezza di poco superiore a 4 metri 80, larghezza di 1,86 e altezza di 1,48 sia perché rappresenta la massima essenza di ciò che da sempre ha contraddistinto le berline Citroen design e comfort il primo è sicuramente audace e richiama subito a progenitrici come la C6 o la XM con la quale vedo un po' di somiglianza nel posteriore con la spalla rialzata e il piccolo spoiler che dite sia dietro che avanti i gruppi ottici sono a led mentre i cerchi sono da 19 pollici più grandi come vanno tanto di moda ora non si possono avere e c'è un motivo cioè la seconda caratteristica la comodità davvero familiare il bagagliaio con 545 litri di capacità minima che arrivano fino a 1640 abbattendo lo schienale diviso 60 40 ci sono soluzioni come una presa di ricarica dei binari per far scorrere i bagagli ma soprattutto mi piace la soglia bassa e poi la cappelliera che è solidale al portellone e quindi l'apertura è sempre generosa però non ci sono dei ganci per le buste della spesa nella parte alta forse il passeggero più fortunato è il posteriore destro perché può regolare direttamente da qui il sedile davanti a lui e trasformare il suo posto in una business class qua e là ci sono ben 13 vani portaoggetti per un totale di 29 litri e così la vita a bordo specie per le famiglie è più facile non solo quelli anteriori ma anche i vetri posteriori sono stratificati per aumentare l'isolamento acustico e portarlo ai vertici della categoria l'abitacolo trasmette una sensazione di semplicità ma allo stesso tempo di ben fatto le linee orizzontali della plancia aumentano la sensazione di larghezza i materiali sono morbidi nella parte alta e centrale anche sulle portiere e duri invece più in basso convince la cura nei dettagli stilistici che si ritrova nei tanti chevron disseminati praticamente ovunque a portata di sguardo e indice il display da ben 12 pollici al centro con una risoluzione davvero alta è un'interfaccia simile a quella dei tablet dunque intuitiva e personalizzabile tramite widget non temete i comandi del clima non stanno lì dentro sono fisici e belli chiari ottima cosa tornando all'infotainment si aggiorna dalla rete e senza cavo si collega allo smartphone per carplay e android auto a proposito il telefono si ricarica wireless ma ci sono anche ben quattro prese usb due di queste sono per i passeggeri posteriori che possono beneficiare di tanto spazio per gambe e testa eppure al centro si sta bene visto che il tunnel è solo accennato inutile girarci intorno che la c5 x nasca per essere una grande viaggiatrice lo si capisce anche quando è ferma eppure da questo punto di vista è figlia dei suoi tempi nel senso che in gamma non c'è una variante diesel ci sono due benzina un 1200 tre cilindri 130 cavalli con cambio automatico auto rapporti un 1600 quattro cilindri 180 cavalli sempre con lo stesso cambio automatico sicuramente più a fuoco per quest'auto considerando una massa che di media sta sempre attorno ai 1500 chili e poi l'interessante versione ibrida plug-in che sto guidando in questo momento il termico è sempre il 1600 ma con l'abbinamento con un motore elettrico da 80 kilowatt circa la potenza sale a 225 cavalli la batteria una capacità di 12,4 kilowatt ora e promette un'autonomia in elettrico di circa 50 chilometri secondo il ciclo wltp la si ricarica in 7 ore da presa domestica col caricatore di bordo da 3,7 kilowatt o in due sfruttando da wallbox la potenza del caricatore opzionale da 7,4 kilowatt al volante erogazione lineare controllata dell'elettrico e combinata in maniera fluida con quella termica attraverso l'impercettibile cambio ea t8 dunque zero incertezze né tanto meno vibrazioni leggero lo sterzo turistico ma comunicativo quanto basta per poter gestire con naturalezza questa grande wagon che può contare solo sulla trazione anteriore lo sterzo soffre di precisione giusto sulle curve strette e in modalità sport diventa persino troppo rigido buono il feeling col freno se riesce a modulare facilmente nonostante la prima parte della corsa sia quella dedicata alla rigenerazione c'è anche un'opzione per massimizzare il recupero di energia in rilascio usando quindi meno il pedale e poi quattro modalità di guida quella 100% elettrica un'ibrida automatica una comfort e la già citata sport che sa difendersi bene con una velocità che sale rapidamente fino a 230 orari un asso nella manica di questa francese ricaricabile per aumentare ulteriormente il livello di comfort considerando poi la sua taratura specifica dell'assetto visto un aumento di peso di circa 250 kg rispetto alle varianti a benzina si chiamano sospensioni advanced comfort attive ci sono dei sensori che analizzano la strada e poi una centralina in grado di controllare la rigidità di ogni singola ruota in questo modo le inerzie vengono smorzate per esempio nelle curve più veloci senza però obbligare tutto il resto del tempo a una taratura troppo rigida il risultato è un comfort di assorbimento eccellente che è ben poco a da invidiare a tante tedesche le versioni a benzina non beneficiano di questa tecnologia ma possono comunque contare sulle sospensioni advanced comfort con smorzatori idraulici progressivi advanced comfort è anche il nome che in citroen danno ai propri sedili che sono realizzati con vari strati di imbottiture e schiume e non si può dire che non siano comodi sono morbidi molto accoglienti però allo stesso tempo contenitivi grazie delle zone con diversa intensità e davanti possono essere sia massaggianti che ventilati o riscaldati infine se si parla di comfort non si può non parlare di sicurezza e quindi di ausilio alla guida che sulla c5x è di secondo livello quella più evoluta oggi grazie ad esempio ad un dispositivo come l'highway driver assist che combina il funzionamento del regolatore di velocità adattativo con funzione stop and go al mantenitore attivo di corsia si comporta molto bene anche alle velocità più sostenute e infondono poi sicurezza le chiare informazioni del generoso head up display a colori che sembra proiettare i dati a circa 4 metri dal parabrezza e vola come per magia cambio versione adesso sono al volante del benzina più potente 1.6 180 cavalli 250 newton metro di coppia a partire dai 1.750 giri 230 chilometri di velocità massima e sempre di serie il cambio automatico ea t8 qui le modalità di guida sono tre ecco normal e sport e devo dire da un punto di vista acustico questa variante benzina non mi fa rimpiangere la plug in perché ok non si può contare su nessuno aiuto elettrificato ma il quattro cilindri è davvero ben isolato allo stesso tempo le sospensioni che qui non sono più a controllo elettronico riescono comunque a copiare bene l'asfalto e a garantire un buon livello di comfort mi è piaciuta la posizione di guida rialzata tra l'altro l'auto da terra è alta oltre 19 centimetri io ho cercato di sollevare il più possibile il mio sedile per avere una bella visuale davanti sfruttando quest'ampia vetratura tutti intorno dietro il discorso cambia un po per via dell'unotto che tende a scendere la coda a salire ma comunque c'è un buon sistema di telecamere retrovisorie infine una cosa che in questo test drive non mi ha convinto ma a barcellona ma non dovrebbe esserci il sole in questo primo contatto ho pensato che sia un peccato che i fari a matrice di led non siano disponibili su un'auto così nuova e votata alla comodità di viaggio non mi ha convinto del tutto poi lo stop and go in coda la frenata mi è parsa troppo brusca nel bagagliaio avrei voluto dei ganci superiori e poi con i binari in metallo una rete che tenga fermi i bagagli è d'obbligo la c5 x va a riprendersi quel posto che era prima della c5 station wagon per quanto riguarda i prezzi vanno da circa 33 mila euro per la 130 cavalli con l'allestimento di ingresso e arrivano ai 39 mila euro della versione da 180 cavalli con la top di gamma la plug in invece parte da 45 mila euro e arriva a superare di poco i 48 mila euro trovate tutti i dettagli e il listino completo su motor one